Maschere antigas, cori e cartelli. La protesta contro la costruzione del biolaboratorio BSL3 che dovrebbe nascere nel quartiere di Torraccia, si è regolarmente manifestata ieri pomeriggio nonostante la pioggia imperterrita che si è abbattuta sulla città. Nel giorno di festa dei lavoratori si sono radunati a Pesaro circa 6.000 partecipanti provenienti da tutta Italia e dall'estero, per ribadire il no già espresso nei mesi precedenti su una struttura in grado di sperimentare e manipolare in vivo e in agenti virali pericolosi per la salute animale dell'uomo. Manifestanti attrezzati di slogan e bandiere che alle 15 sono partiti da piazzale Stefanini, hanno poi proseguito verso l'area commerciale di quartiere concludendo il corteo una volta giunti alle spalle della vitrifrigo arena, in quell'area tra via dei Tigli e via grande Torino in cui sarà costruita la struttura. Pesaro chiama l'Italia risponde, uno slogan che ha l'intento di richiamare l'attenzione di autorità e istituzioni locali ma anche nazionali, su un biolab che rimanda concettualmente alla diffusione pandemica Covid-19 e al laboratorio di Wuhan, di sicurezza addirittura maggiore. Un percorso di poco più di un chilometro che dopo una sosta ha ripreso il suo cammino arrivando alla rotatoria della Guardia di Finanza e terminando poi al punto di partenza. L'intera durata del flash mob è stata controllata dalle forze dell'ordine che di conseguenza ha provocato il blindaggio dell'intera zona dalle 15 alle 17 di ieri pomeriggio con la ripartenza dei circa 40 pullman verso le ore 18 una volta conclusa la manifestazione. Un atto vergognoso come definito da molti contrari al progetto che nella protesta sono stati guidati dai due referenti locali Lisetta Sperindei e Marco Palanghi. Centrale è il riferimento fatto dai due rappresentanti ad un disastro imminente che vedrà battersi sulla città di Pesaro.